ok video acceso si può filmare bella vista questi alberi fanno un bel bel paesaggio e si un po non è grand che qua in montagna deve avere tante cose buone cominciando da cuore io arrivo a casa mi carico con vitamine subito prendo un integratore sportivo proprio subito e mangio io ce l'ho anche un farmaco si chiama riboxina tipo un acido che migliora la ossigenazione del muscolo cardiaco per mantenere corpo perché il corpo ha bisogno di un supporto veloce zuccheri veloci e così tranquillo puoi mangiare ma prima dobbiamo mettere zuccheri per recuperare veloce perché di sera senti che sei proprio sfogato io prendo vitamine tutte queste cose serve ci sono questi integratori a decathlon sono abbastanza buoni puoi comprare ci sono quelli per i vegan poi ci sono quelli che per sportive carboidrati una porzione una volta per due giorni io prima mangiavo tre porzioni per giorno adesso faccio così quando mi sento diciamo se voglio un po un po di più energia come oggi ieri sera ho preso un gainer due ieri ho preso due oggi camminavo come treno in montagna perché il corpo carica carboidrati e questi carboidrati come zuccheri poi ci servono per energia dei muscoli diciamo così sì però a livello queste ancora sono tutte cose legali però già hanno farmaci dentro e anche questo ci sta se sai a fare bene si conosce suo corpo frutto ti dà tanta energia dipende che frutta ti conviene a mangiare diciamo io banani quasi non posso mangiare arancioni mi piacciono poi mandarini poi un po suco di mela miele a me piace quando fai limone metti in questa cosa per macellare carni come si chiama poi prendi noci uva asciutta noci greca altre noci tutto tutto vai tutto a macellare come si chiama questa cosa questa macchina e poi metti nel miele insieme con limone e mangi un cucchiaio mattina un cucchiaio di sera si frulli si però devono rimanere particolari non fare proprio e mangi un cucchiaio mattina una sera e ti senti veramente bene poi però sempre queste cose a mangiare non si può con calma che altezza wow che bello quella pianura da giù come un campo da dove abbiamo lasciato la macchina giusto come un campo da golf come un campo di attenzione come un campo di attenzione un campo di attenzione Sì, sì, capito. Io sono stato una volta là con Vanessa, c'è un cammino a sinistra, giusto? Sì, abbiamo bevuto una birretta e abbiamo mangiato, non ricordo cosa, guarda, su proprio, bello, bello. Ma che turismo è giù, eccolo là. Là dove abbiamo bevuto con te, ho detto che io... Birra, ricordi? Non mi hai mangiato il fricoli? No. È una specialità. Mamma mia. Finito del mondo. Sì, se fanno qualcosa io vi vuoi dare, qualcosa quando vediamo. Ma è aperto? In teoria, se volete aver aperto io e se... Sì, di dicendo che c'è la mia vita di solito è aperto. Sì, ne avevamo fermato, avevamo preso un po' di questa volta, ma facciamo un po' di farà. Carni, carni avevamo preso. e quello che dice che la scienza dice che non mi manca quella e qui ci sono avanti con i cani alle 4 di macina lì Grazie a tutti.